E' in arrivo la gara di SC9 di Ceppino, chiudere la strada! E' in arrivo la gara ciclista di SC9 di Ceppino, chiudere le strade fino al passaggio della porta! Chiudere le strade, affrontare i porti della strada, in arrivo la gara SC9 di Ceppino, chiudere le strade, in arrivo la gara ciclista di SC9 di Ceppino! Scливare la strade, affrontare i Ikerni giudiziare le strade! Perché le strade, affrontare i Ikerni giudiziare le strade... Scrisare la strade, affrontare i le strade, in arrivo l'ultimo del Combat 30. E' in arrivo la strade, affrontare i IKESI, in arrivo la strade, in arrivo la strade. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. E secondo me sono già fuori corso al corso. Fu partito a treno. E secondo me è fuori corso. E secondo me è fuori corso. E secondo me è fuori corso. Eh sì, perché questo ogni giro lo fanno i fini quattro. Poi porto qua e poi arrivo qua allo stesso alla fine. Sì, perché gli ultimi tre ti conviene fare la salita. Tu almeno la salita, poi arrivo qua. Sì. E' andato a Ginoacchio, quindi... E' andato a Ginoacchio, quindi... E' andato a Ginoacchio, come fa? Grazie a tutti.